L'Università della Calabria è il suo nuovo rettore. Si tratta di Gino Mirocle Crisci, ex preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Crisci, 64 anni, è originario di Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Convolgerò tutti, chi mi ha votato e chi non mi ha votato. Cerco solo gente di buona volontà, capace, che creda in questa università, che vuole dare un contributo. Anche nel contrasto, che poi quando si ha lo scontro, si discute, poi alla fine una soluzione si trova sempre. Infatti ieri ho mandato un messaggio, che già oggi vedo qualche collega ha recepito, che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. La barca è uguale per tutti, siamo tutti dalla stessa parte. Chi vuole fare affondare questa barca è un suicida, perché se affonda la barca affondiamo tutti. Quindi andiamo tutti dalla stessa parte. Crisci ha già annunciato che vuole rafforzare e mettere a frutto i rapporti con la Regione Calabria e poi rilanciare l'Ateneo nel bacino del Mediterraneo. Il mio scopo è far diventare un'università veramente un riferimento nazionale e internazionale, che poi solo in questo modo potrà essere un riferimento locale. Perché se tu acquisti in prestigio, poi il prestigio te lo vai a spendere a livello locale. Ma se tu il prestigio non ce l'hai, a livello locale non ti considera nessuno. Ti dirò, ma tu voi siete uguali agli altri, cosa volete? Chiaro?